Va ora in onda, news in quota. I fatti salienti e le curiosità della settimana in provincia di Belluno decollano con la voce del quotidiano online newsinquota.it. Rischio chiusura degli impianti sportivi a causa del caro bolletto. I sindaci bellunesi sono preoccupati e il primo a saltare potrebbe essere il palaghiaccio di Alleghe. Secondo le stime degli uffici comunali emerge infatti un aumento variabile tra il 30 e il 35%, tradotto, troppi soldi per tenere aperto, a dalle che si parla di circa 60.000 euro in più all'anno. Se le condizioni saranno queste, rimangono solo due alternative. Può aumentare parallelamente le tariffe per chi usufruisce dell'impianto, cosa che non sarebbe comunque sufficiente e che il comune non intende assolutamente attuare per non gravare sulle tasche degli utenti oppure chiudere. E nelle stesse condizioni si trovano i sindaci che amministrano comuni in cui si trovano piscine e palasport. Il sindaco di Alleghe ha già attivato la provincia di Belluno, che si è mossa chiedendo un coordinamento tra amministratori, interessando del tema anche il ministro Federico Rincà e tutti i parlamentari bellunesi. Il l'ave in caro costa caro. Avete ascoltato News in Quota? I fatti salienti e le curiosità della settimana in provincia di Belluno decollano con la voce del quotidiano online newsinquota.it